La bimba aveva smarrito la strada e correva, correva. I lampi squarciavano il cielo e sembrava che i tuoni la inseguissero. Un tratto essa vide una luce lontana. Forse era la salvezza. La bimba corse ancora e la luce diventava sempre più viva. Era la luce di una lampadina curiosa piantata in cima a una bombolina, la bombolina Camping Agip Gas, alla quale si può facilmente applicare anche un fornello. Va meglio del fornelletto a spirito? Almeno si lavora puliti. Non c'è confronto. È sempre pronta. È la bombolina Camping Agip Gas. Nei bichinic eleganti non manca mai. In tre minuti il pranzo è servito. Più fresco di così. Dovunque e solo con bombolina Camping Agip Gas. Leggera. Sicura. Pratica. Deliziosa. È la bombolina Camping Agip Gas. La soluzione ideale per le massaie, per gli artigiani, per gli sportivi. In casa, nel laboratorio, per le vostre scampagnate, bombolina Camping Agip Gas. Fiamma e luce viva dovunque. La potete acquistare presso tutti i distributori Agip Gas e presso le grandi stazioni di servizio Agip. Ricordate. Bombolina Camping Agip Gas.